buongiorno da obiettivo news oggi 22 aprile san leonida di alessandria e della giornata internazionale delle ragazze nelle tecnologie dell'informazione della comunicazione promuove il lavoro delle ragazze delle donne nel settore ct e incoraggia la loro partecipazione in questo campo l'itu l'agenzia delle nazioni unite nota comunione internazionale delle comunicazioni ha creato la giornata internazionale girls in ict o gict l'obiettivo principale di questo evento è quello di ispirare coinvolgere in modo significativo le ragazze e le giovani donne a perseguire un'istruzione o una carriera nel campo stem scienza tecnologia ingegneria e matematica ha inoltre lo scopo di far luce sulle sfide e l'opportunità per le giovani donne di assumere un ruolo attivo nel settore delle ct oggi è anche la giornata nazionale dei virsel con crauti e la giornata internazionale delle caramelle di gelatina a forma di piccolo fagiolo trenati in questo giorno abbiamo rita levi montalcini 1909 indro montanelli 1909 e serena dandini 1954 tra le scomparsi ricordiamo alida valli 2006 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti